Il simbolo della ripartenza, ringraziamo i comuni che hanno insieme elaborato questo progetto presentato al MIBACT, circa 17 milioni di euro di finanziamento, che ruota intorno alla figura del Toma Turgo e della Calabria, poi non di tutti i carabesi Francesco e San Francesco da Paola, ma che ha in sé, diciamo nella logica come il progetto è costruito, quindi green sull'infrastrutturazione, sulla logica di questi percorsi, la ripartenza simbolica della Calabria. Il turismo in generale, il turismo religioso in particolare come grande attrattore, abbiamo creduto in questi sindaci e il progetto deve essere realizzato entro il 2023, a questo si inserisce una programmazione più ampia della Regione Calabria, noi siamo stati contenti di celebrarlo proprio come il progetto è la ripartenza. I sindaci sono qui, hanno dato le schede anche ai giornalisti per presentarne i punti nodali e credo che sia, ribadisco, per questo è stata fatta una conferenza stampa, proprio il simbolo della Calabria che riparte, che riapre e che intorno al suo grande attrattore, il padrone di tutti i calabresi, può guardare con speranza al futuro.